La prima, la veterana della Sacra Famiglia, li ha visti crescere tutti, tutti quanti, ha visto tutti i talenti, pullandoli e baciendoli, diventare quello che sono, sarà l'esperta degli esperti, direttamente dalla vasca coperta della piscina, Chiara Pellegrini! E passiamo al prossimo giudice, a compasso l'indo delle case, è il direttore della nuova borghestra, professore e maestro di musica, dagli il bello ai quattordi signori, ecco la prima, Robby Bacchetti! La voce che accompagna tutte le nostre cine da scuola, oggi giudice inflessibile, è il valore, maiochi! Lui è il regista della mitica compagnia teatrale Quali del Primer D, con il solito prom, Marco Oficio! Tutti bravissimi, naturalmente, questo è scontato, però una classifica doveva esserci, ed eccola qua, al terzo posto del primo Ceriolis Got Talent, si posiziona il gruppo di Stefano Inel Col! In Valerini! Invalidini! Dave Blue Tipsi di No te creo, ya no te deseo Te mi aslo fia No te sinto, no te sinto, no te amo Esofia E por qué no me dices, me aslo fia Ma che bravi, prendete tutto questo applauso che è vostro Ragazzi bravi, bravi, bravi Temo per il mio posto come coreografa dei Vans da Giardino Allora, io quando vedo ballare rimango sempre basita Perché io non saprei fare un video di quello che avete fatto voi E quindi bravi, bravi, bravi Al secondo posto sempre di questa edizione 2019 del Ceglioli's Got Talent Gabriele Vazzara Agua e la placcia che io voglio prendere Siamo il sole in un giorno di fiorga Siamo musica vera che c'è Siamo musica vera che c'è sta È imparata benissimo Quella canzone qui è parte di te Infatti si è visto Che hai imparata bene Sai fare le lezioni a tutti Ascoltando la musica Ascoltando quello che ti piace Anche l'autore che ti piace In caso a caso il volo Hai fatto una magia Quella canzone qui è parte di te Si è vista Vai Henry Vince il primo posto della prima edizione del Ceglioli's Got Talent E due biglietti per lo spettacolo del Cudivi di Giugno Atenzione Il primo campagnieri È il primo campagnieri enda Figger Siamo musica viene Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il buon Dio ti ha dato un bellissimo dono, lo usi bene? Complimenti! E mi riaggancio a stare lì e farlo in un certo modo e con l'emozione è bello, quindi tu sei salita con tutto quello che hai, una bella voce e tante belle emozioni. Quindi grazie perché ce le hai regalate e le condividiamo. Bravissima! E te lo rispostavo è anche questo, brava! Ma vorrei veramente un ultimo applauso per tutti quanti, anche per chi ha partecipato alle audizioni. Un nuovo applauso a tutti! Grazie 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 a tutti!